Allora, ciao a tutti amici di Facebook, di Youtube, vi voglio presentare un mio amico Alessandro, detto padre, è un bravo ragazzo, vero Ale? Comunque, vogliamo dedicare un bel pezzo, vogliamo mettere Ave Maria, la dedichiamo a tutti quanti voi che ci ascoltate sempre, la mettiamo subito. Ovviamente la faremo insieme. Madre di brava, c'è un bel amore Tu, Madre Santa, Madre mia Non negare, questo già ti ha tanto peccato, rego al tuo dolore C'è un bel amore 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 Maria Amici, vi ringraziamo, un gran saluto da parte mia e di Alessandro. Ciao a tutti, grazie di averci ascoltato.